By Night, ancora di più By Night By Night By Night By Night By Night Siamo in compagnia del dottore Gidio Lopane, medico dentista in Taranto, dopo aver fatto questa ampia panoramica descrittiva dell'igiene orale, abbiamo proposto una domanda alle persone un po' come me, un po' più anziane. E come me ho detto. Allora, parlavamo appunto di impiantologia e quindi dovessimo un giorno immaginare di avere dei denti finti o chiamiamole così, una protesi. Che cosa volete, che cosa preferite? C'è stata una persona che ha detto, ah vabbè, non ti dico niente, ascolta un po'. Qual è la protesi migliore, quella fissa o quella mobile per i denti? Ma io ce l'ho. Come ce l'avete? Le metto lì su, mi trovo bene, sia sotto e sopra. Ed è mobile? La sera dove la mettete? No, la sera la tiro via, la lavo e la metto nel coso che ho. La mattina le metto su, sia sotto e sopra. Mi trovo bene. Beh, cercherei qualcosa di fisso. Perché? Sicuramente. Beh, il pensiero di avere qualcosa di mobile non mi fa stare bene. Eh, ne ispiro mai di utilizzarla mai, comunque fissa. Perché? Eh, si ispira, resti ferma e non si stia a utilizzare tutti i giorni qualche prodotto per tenerla ferma. Dovendo pensare alle protesi fisse e mobili, secondo lei quali sono più convenienti, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista pratico? Per me è mobile, è più igienica. È più igienica quella mobile? Sì, secondo me. E quella fissa? Ma se è fatta bene, vorremmo che è meglio anche quella. Ma è vero che in Italia ci sono pochi medici che sanno lavorare sulle protesi fisse? E ce neanche di falsi, non solo pochi. Cosa porta? Quello di realtà è che no, sono mobili, non sono fisse. Come mai ho scelto quella mobile? Eh, perché i soldi sono pochi e per mettere i denti non ce ne sono. Sì, secondo me quella mobile. Perché? Eh, perché si può lavare e pulire quando vuoi e come vuoi, igienicamente. Quella fissa invece non si riesce sicuramente a pulirla bene. I denti, come devono essere fissi o mobili? Beh, quando sono fissa sono sempre meglio. Adesso sono mobili, non mi piace, io ce l'ho, ce l'ho mobili. Ce l'avete mobili? E la sera dove mettete l'acqua? Prendo il vasetto, lo metto dentro, metto la pestiglia, la mattina stanno freschi. Giovani, quella fissa è buona per i scivolini soldi. Chi non ce l'ha assai, lui si mette la protesi. Beh, sicuramente fissi, sicuramente fissi e non in Italia, all'estero. Perché? Per questione di monete. Secondo lei, meglio la protesi fissa o quella mobile? Quella fissa è fatta bene, da spendere un sacco di soldi, però io ho intenzione, quando farò soldi, di andare in un paese povero per fare i denti buoni. Spendere pochi e avere i denti buoni. In Italia si spende milioni e i denti non li fanno buoni, secondo me. Perché io ho un amico che ha spesso oltre 15.000 euro, tre anni fa, e li ha buttati. C'è qualche dottore buono, però è da trovarlo, come le mosche bianche. Non è ancora il momento, ritengo, ma dovessi un giorno concepire l'idea di una protesi, fissa o mobile, a che cosa pensaresti? Meglio morire. Dunque, qui caro Egidio Lopane, caro dottor Lopane, adesso io mi vesto della mia responsabilità, lei si vesta della sua. Le correnti di pensiero, come hai sentito, sono molto diverse, perché la gente giustamente pensa a questa sorta di turismo odontoiatrico, se lasciami passare il termine, per un argomento su quale c'è molta confusione. Protesi mobile, perché quella fissa costa tantissimo, alcuni hanno denunciato il fatto che non regge tanto. Io direi, parliamo un po' in generale, poi ti faccio qualche domanda un po' più specifica. quando non puoi rispondere mi dirai non comment, per esempio. Eh beh, dipende, dipende, chiaramente dipende dalle, da quello che il paziente, dagli elementi rimasti in bocca al paziente, dalla possibilità o meno di fare implantologia e non ultime purtroppo dalle possibilità economiche del paziente. C'è questa sorta di turismo, dicevamo prima, cioè la gente va fuori dall'Italia per farsi fare degli impianti che costano di meno. Che cosa ne pensa il tuo parere da medico? Beh, io credo che chi va all'estero vada più che per avere una qualità, perché normalmente la qualità dei dentisti italiana è superiore, è molto molto alta rispetto alla norma europea, per cui chi va all'estero va soltanto ed esclusivamente per risparmiare, per motivi economici. Fra l'altro su questo avremmo anche qualcosina da ridire, perché il più delle volte le protesi vanno seguite nel tempo, per cui non so se è molto facile andare all'estero per farsi fare una revisione sulla protesi o qualche ritocchino o la normale manutenzione, perché non ci dimentichiamo che noi pazienti di protesi, specialmente quelli su impianti, li rivediamo ogni sei mesi, li controlliamo, perché gli impianti vanno bene, ma devono essere sicuramente controllati e mantenuti. Passiamo ora a parlare di sanità, perché è allarme dell'Associazione dei Dentisti del Veneto. Stop, dicono, all'importazione di materiale low cost, quindi sotto costo, materiale odontoiatrico dall'estero. Ci racconta perché l'inviato Lara Boccalone. Arrivano in gran parte dalla Cina, ma anche da Marocco, India, Madagascar, denti di protesi low cost, fabbricati in quei paesi e importati in Italia senza alcuna certificazione attendibile sulla qualità e sicurezza del prodotto. All'aspetto esteriore sembrano simili a quelli made in Unione Europea, ma in realtà possono essere pericolosi per i pazienti. Un allarme che attraversa da tempo l'Europa a raccoglierlo e rilanciarlo in Italia è la sezione del Veneto dell'Associazione Dentisti Italiani, preoccupata per la crescente diffusione di questi materiali a basso prezzo da paesi extraeuropei che allettano i referenti commerciali di grossi centri dentistici che li utilizzano per attirare clientela con tariffe stracciate, puntando a maggiori guadagni. Il pericolo è che all'interno di materiali che provengono da paesi che non hanno obbligo di certificazioni vi siano materiali tossici. Di conseguenza questo fenomeno che si sta diffondendo preoccupa perché è lesivo della salute dei cittadini che è assolutamente tutelata. Landi chiede il blocco delle importazioni di materiali pericolosi e preannuncia battaglia legale contro chi ne fa uso. In Triveneto si stima siano il 30% delle grosse strutture odontoiatriche in attesa di una legge più garantista ha stretto un accordo con gli odontotecnici di confrattigianato per assicurare la rintracciabilità e qualità delle protesi. Allora, diciamo così, approfondiremo molto questo argomento. Io ti faccio una domanda così tendenziosa che lascia un po' spazio a diverse considerazioni. Tu da quanto tempo fai impiantologia? Beh, io il mio primo impianto l'ho messo nel 1989. Ah, benissimo. Quindi è passato un po' d'acqua sotto i ponti. Dove si va per vedere se una persona è esperto, è capace o meno? Se c'è un sito, c'è un diploma, c'è una patente per esempio? E magari ci fosse, purtroppo non c'è. Questa è in base alla discrezionalità di una persona, della manualità che uno acquista con il tempo. Ovviamente alla preparazione, ci sono ovviamente dei corsi di perfezionamento che si tengono presso le università, di centri specializzati, presso cui uno impara a mettere gli impianti. Ne parleremo e approfondiremo bene questo concetto, non a caso io vado verso la maggiore età, quindi potrei averne io bisogno in prima persona. Grazie al dottore Gido Lopane e sicuramente, poi scopriremo anche le tue passioni quali sono. Poche, poche il mare. Il mare, il mare. E vive il mare, vive il mare di Taranto. Grazie a Gido Lopane appreso di sentirci sul By Night. Grazie soprattutto per la tua serietà, professionalità e la tua simpatia, perché hanno detto che viene bene in video. Sì, speriamo, non lo so. Grazie, continuate a seguirci.